Se siamo colpiti da sindrome influenzale in questi giorni, quindi armiamoci di pazienza e lasciamo che la malattia e i nostri anticorpi facciano il loro decorso. Inutile il ricorso agli antibiotici. Gli antibiotici sono farmaci da usare per le infezioni di origine batterica. Gli antibiotici non servono a nulla contro le infezioni causate dai virus, come il raffreddore e l'influenza. Le somministrazioni inutili, dice Claudio Cirielli, presidente della Simge, la Società Italiana di Medicina Generale, rischiano di creare resistenze, ovvero sia di non funzionare quando ci servono veramente, come nel caso di una infezione grave. Solo in caso di complicanze è quindi opportuno assumere questi farmaci e non serve intasare, continua Cirielli, il pronto soccorso. La febbre alta è un sintomo comune che può essere controllato con gli antinfiammatori. Quindi non c'è motivo di chiedere al medico di prescriverli per queste malattie. L'influenza e il raffreddore sono classici disturbi invernali che possono essere efficacemente trattati anche con i farmaci da automedicazione, rivolgendosi al farmacista di fiducia, che saprà consigliarci i rimedi classici. Di solito per la febbre si usa paracetamola, acetacetil salicilico, in più per la tosse i vari tipi di sciroppi fluidificanti, sedativi della tosse. Quindi quando la patologia è lieve, chiaramente se poi la patologia diventa un po' più complessa, bisogna che il paziente si rivolgi al medico per fare innanzitutto una diagnosi e quindi poi usare il farmaco relativo. Solo in caso di febbre persistente o sintomi gravi dunque è indispensabile rivolgersi al proprio medico. Per il resto, oltre al farmacista, affidatevi anche la saggezza popolare che parla di letto, lana e di un buon brodo di pollo caldo, naturalmente. Grazie. 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 Grazie.